Giovanni Pascoli, Giovanni Verga, la produzione di un testo sulle leggi razziali, con un brano dal libro scritto da Gerardo Colombo e Liliana Segre, la fisica di Giorgio Parisi, il tema sul Covid, i cambiamenti climatici e l'importanza della scienza. Dopo due anni di pandemia ritorna l'esame di maturità, dei maturandi ribattezzati del ritorno alla normalità. Per due anni infatti gli esami non presentavano le prove scritte ma un'unica prova, quella orale. Anche quest'anno è presente una novità, gli studenti italiani dovranno affrontare soltanto le due prove scritte senza il quizzone. 80.000 gli studenti campani che sono alle prese con l'esame di Stato da stamattina al liceo Umberto, dopo sei ore di esame, gli animi degli studenti sono più tranquilli. Devo dire che sono abbastanza tranquilla, le tracce non erano complicate, comunque eravamo stati abituati a esercitarci su tracce che erano già uscite precedentemente, quindi sapevo anche quale tipologia era quella magari più affine alle mie capacità. Io ho scelto il testo argomentativo, la proposta B2. Si partiva da un testo che parlava del rapporto tra uomo e musica e poi il testo argomentativo prevede la risposta a delle domande e poi l'argomentazione, quindi in base alle nostre conoscenze di quello che è il tema che appunto stava trattato nel testo. Ho fatto il tema sulle tecnologie, tracce abbastanza complicate però fattibile, sicuramente è un'emozione nuova perché sono donati gli iscritti, speriamo bene anche per domani il latino e gli orali. È andato bene, sicuramente le tracce non sono state molto soddisfacenti, ci aspettiamo forse qualcosa di più interessante, sicuramente magari una traccia sulla guerra, visto che noi comunque ragazzi ci stiamo interessando molto, però ho scelto comunque una traccia di attualità sul Covid, quindi speriamo sia andata bene. È andato bene, sei ore sono lunghe, però sono riuscita a finire prima, ho scelto la traccia della musica ed è andato tutto bene. Io pensavo fosse più complicato, invece sono riuscita a finirlo da sola, senza nessun aiuto, quindi spero bene. Era più facile dei temi che ci dà il nostro professore, quindi è andata benissimo, ci ho messo pure di meno. Possiamo dire che il trauma di ritornare a fare gli iscritti dopo i due anni di Covid è stato superato bene? No, ma in realtà nessun trauma, non ho mai avuto il trauma, zero ansia.